Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e buona domenica a tutti quanti voi, non so se vedete ma sono tornato da poco da mare ed è uscita questa notizia lampo e allora sono qui per farvi il video e informarvi in tempo reale Prima di parlarvi però chiaramente vi chiedo di lasciare come sempre un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere la vostra Allora, pochi minuti fa il Lecce ha ufficializzato l'acquisto di Christian Bistrovic, giocatore classe 1998, quindi 24 anni che arriva in prestito con diritto di riscatto, che dipenderà ovviamente dalle prestazioni della squadra nella Serie A di quest'anno dalla CSK Mosca, squadra importante della Serie A russa appunto è giovane però nel suo curriculum già c'è comunque tanta esperienza perché non solo ha fatto tante partite nella Serie A appunto della Russia ma il CSK Mosca in questi anni ha disputato anche le competizioni europee tra cui la Champions e l'Europa League e quindi anche esperienza internazionale è andato poi in prestito in alcune squadre turche, al Kacimpasa e l'anno scorso al Karagumuruk, squadra ugualnata anche da Andrea Pirlo quest'anno e adesso appunto arriva da noi il centrocampista appunto croato è un mediano, è il suo ruolo principale, quindi un fulcro tra la difesa e il centrocampo però all'occorrenza può ricoprire anche tutti gli altri ruoli di quella zona di campo quindi può fare anche l'interno di centrocampo, all'occorrenza potrebbe anche fare l'esterno e il trequartista quindi pensandoci fondamentalmente essendo un mediano dovrebbe essere una riserva di Juhlman voglio rifiutarmi di credere che possa essere un sostituto di Juhlman perché in questi giorni sono uscite varie voci dell'interesse del Napoli di Juhlman e spero vivamente che il giocatore rimanga spero cioè se davvero dovessero vendere Juhlman allora si farebbe veramente veramente difficile non credo che succederà perché sarebbe veramente da matti già stai vendendo vari giocatori tra cui anche Arturo Calabresi che per me per la Serie A sarebbe molto importante anche per la grinta che ci mette in campo e quindi mi rifiuto di pensare a questa idea utopica di vedere Juhlman via da Lecce non so cosa ne pensate voi di questo nuovo acquisto io sinceramente sono contento è un colpo alla Corvino avrebbe finito magari dei centrocampisti d'esperienza che magari hanno già giocato in Serie A si era parlato anche di Benassi eccetera però il nome di Bistrofic era uscito praticamente in questi ultimi giorni ragazzi ci sentiamo con una nuova notizia di calcio mercato perché dovrebbe arrivare il difensore l'alternativa di Maximo Piccioli che appunto ha detto no e allora forza Lecce sempre ci sentimo alla prossima e ciao